e devo dire che con sintonie si siamo trovati subito in sintonia nel senso che sia con il personale della struttura ma soprattutto per quel che riguarda la struttura dobbiamo fare i complimenti ci siamo abbiamo trovato veramente una struttura bellissima le stanze sono devo dire adeguate ho già prima accennato al fatto che ci piace tanto questo questa location quest'ambiente per tanti motivi per la sua spazzurità per quanto è luminoso quanto è comodo da raggiungere per tanti motivi sia l'organizzazione che la location ci è piaciuta molto direi bene il palacongresso io lo conoscevo già dall'anno scorso sono venuto la prima volta è un'ottima struttura è molto bella molto solare come si vede e poi siamo a rimini quindi qual è la migliore occasione per me anche a visitare questa bellissima città e anche il mare per me è il top qui la location è credo la più bella location che ci sia in italia per questo tipo di eventi io ho un'esperienza storicizzata sia nelle manifestazioni realizzate negli hotel ma anche il top audio quando esisteva questa manifestazione e prima ancora il si mai fai che era l'unica fiera collocata all'interno di un ente fieristico e devo dire che questa struttura sia da un punto di vista della sua costruzione della sua architettura che da un punto di vista degli spazi e della facilità di gestione dei flussi delle persone all'interno degli spazi credo non abbia uguali oggi sul territorio italiano ed è sicuramente il posto giusto dove sviluppare la più importante manifestazione dell'intrattenimento domestico a livello nazionale